come va? come stai giovanotto? come hai detto? scusa ciao uccellino, polli vuole un cracker, polli vuole un bel culetto di tua mamma che cosa ha detto polli? ciao uccellino, polli vuole un cracker, polli vuole un culetto di tua mamma che cosa ha detto, che cosa ha detto, polli vuole un bel culetto di tua mamma amm ilatore di tua mamma tea è salvato, che cosa ha detto polli vuole un culetto di tutti polli vuole un culetto di tua mamma detto sì, che è un襟io bruito di tutto con la regio, mi non posso Duchai aa�, ehm, bucci, rai, dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.